Dopo quello della capacità distintiva che abbiamo detto essere il requisito fondante del mondo dei marchi, ce ne sono altri due, il requisito della liceità, cioè un marchio deve essere lecito, non posso registrare un marchio che di per sé sia illecito. Adesso vediamo come l'articolo 14 del codice della proprietà industriale definisce la non liceità di un marchio, non mi ricordo più, ecco la norma è tutta in un'unica slide e sono questi tre casi sostanzialmente, dice che non possono costituire l'oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni contrari della legge e l'ordine pubblico al buon costume. Dopo ve ne faccio vedere uno che è divertente, i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio. Se un segno è di per sé, un segno quindi un marchio in questo caso, è stato di per sé concepito proprio per ingannare il pubblico, per ad esempio ingannare sulla provenienza geografica, quello che ogni tanto noi italiani lamentiamo nei confronti di altri paesi europei che fanno il cosiddetto Italian Sounding, fanno la confezione della pasta, la confezione del latte, dei formaggi che sono fatti magari in Polonia, però gli danno, gli mettono la torre di Pisa, gli mettono la bandiera italiana, gli mettono delle colline del Chianti per far sembrare che sono italiane, quindi il marchio è stato pensato già con uno spirito di ingannevolezza, ok? Allora, in quel caso non si dovrebbe poter registrare, almeno secondo la legge italiana. E poi il punto C, il caso C, i segni in cui il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi. Interessante questo per voi, il terzo punto, perché è il caso in cui, ad esempio, allora, a volte un marchio, prima di diventare marchio, è un'opera dell'ingegno, cioè è una figura, un'immagine, che quindi è tutelata anche da diritto d'autore, ok? Allora, se il marchio è una semplice, cioè questo marchio qua che c'è in alto, Isia, scritto così, è un marchio, tutti gli effetti, perché individua una scuola, però non è di per sé la parola sufficiente per essere opera creativa. Però già l'iconcina di fianco, questa colonnina, questa anfora, è già insomma qualcosa di un po' più creativo. Forse anche qua troppo poco, però se il marchio parte da un'immagine che è quindi a tutti gli effetti tutelata da diritto d'autore, io non posso fare, usare un marchio che già di per sé, ancora prima di diventare marchio, ancora prima di essere registrato come marchio, sta già violando il diritto d'autore di qualcuno che non sa che io voglio usare la sua immagine per fare il marchio. Perché dico che per voi è interessante? Perché a volte voi, nell'attività grafica, vi chiedono questo, no? Di fare un progetto grafico per tutto il rifacimento grafico di un'azienda, c'è anche il nuovo logo, il nuovo marchio, qui voi siete ancora in una fase creativa, state facendo disegni, cose, per questo vostro cliente, poi lui va a registrare il marchio, no? Senza dirvi nulla, utilizza una delle vostre bozze. In teoria lì dovrebbe prima, diciamo, chiarire la situazione con voi, quindi farsi dare i diritti, e pagare quello che deve pagare per il lavoro di consulenza grafica e poi può vantare, può dire di essere lui il titolare di quel marchio. Quindi far diventare quell'immagine un marchio. Ho saltato il punto A che vi ho detto, dopo vi faccio vedere qualcosa, era questo, vediamo se riesco a farvi vedere. Ehm... Ehm... Vediamo se viene fuori qualcosa. No, perché è un'immagine che... Lo conoscete il marchio... È strano però che non compaia. Vabbè. Sapete tutti, no? Cioè, conoscete tutti questo marchio. Ehm... Ce n'era uno che faceva un po' lo stesso gioco. Adesso, eh... Non vorrei che le fanciulle presenti si scandalizzino, no? Però è chiaro che cosa rappresenta questo marchio. È chiaro che anche l'occhio... Eh... Il... La malizia sta nell'occhio di chi guarda. Quindi in questo caso, l'occhio non malizioso vede una semplice A con due palline di fianco. L'occhio malizioso vede questa cosa qua. No? Quella che vedete qua a destra della slide. Io, quello che voglio farvi vedere, che in realtà non c'è perché è stato molto più nascosto, era un caso simile di una società che però faceva film a luci rosse, che aveva registrato un marchio di questo tipo, però ancora più esplicito di così. E visto che era una società che faceva quel tipo di produzioni, era molto più smaccato, era molto più evidente la volgarità e l'intento di questo marchio, e quindi era stato considerato illecito. Quindi la A Style, che era l'azienda di abbigliamento che era riuscita a fare causa a questa società che invece faceva altro e che aveva fatto un marchio simile e che giocava un po' su questo tema grafico, possiamo chiamarlo, aveva usato l'argomento della non liceità del marchio. Torniamo alle slide, vi ho detto che c'è un'altra norme che riguardano la registrazione e l'innovazione, che sono gli articoli 15 e 16. E quindi ci dice questa slide, in cui ho abbreviato e messo insieme il succo delle due norme, l'articolo 15 e 16, ci dice cosa deve fare un titolare di marchio per registrarlo e rinnovare, perché come vi ho detto il marchio ha una durata normalmente di 10 anni, ma poi può essere rinnovato. A differenza del brevetto per invenzione, come vedremo, e quello per design che a un certo punto scade e non può più essere rinnovato, quindi quell'invenzione o quel design possono essere replicati da chiunque, il marchio può essere rinnovato all'infinito, perché ad esempio uno dei marchi più storici e vecchi è proprio quello di Coca-Cola, e Coca-Cola esiste dagli anni 20-30, eppure stanno rinnovando il marchio, cioè non è che a un certo punto è scaduto, anzi, si rafforza sempre più in alcuni casi. Cosa dice la norma? Articolo 15 si dice che i diritti esclusivi considerati da questo codice, dal codice della protezione industriale, sono conferiti con la registrazione. Attenzione, l'abbiamo già detto l'altra volta, esiste una tutela anche per il marchio di fatto, però la legge, il codice della proprietà industriale, prima ci dice come funziona la registrazione del marchio, quali sono i diritti che vengono attribuiti al titolare del marchio attraverso il procedimento di registrazione, quindi il marchio con la M maiuscola, il marchio vero e proprio, cioè il marchio registrato. Anche il marchio di fatto, abbiamo detto che è marchio a tutti gli effetti, però ottiene la tutela non tanto per la registrazione, ma quanto dimostrando che viene utilizzato e viene riconosciuto, e quindi ha ottenuto la cosiddetta capacità distintiva anche a posteriori, anche senza una registrazione. chiaro il concetto? Quindi ci dice poi che gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda, trattandosi di rinnovazione, quindi di una seconda o terza o quarta rinnovazione della prima registrazione, gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente. La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa o ai prodotti o servizi affini, cioè quando voi andate a registrare un marchio, vi dicono per quali categorie merceologiche potremmo dire volete registrare il marchio. C'è una classificazione che viene chiamata classificazione di Nizza, perché dipende da un trattato che è stato sottoscritto a Nizza, in cui è un trattato internazionale, in cui quindi gli stati che hanno partecipato alla convenzione si sono accordati per dividere i vari prodotti e servizi e aziende secondo un elenco di codici, cioè un po' come i famosi codici Ateco, vi ricordate i codici Ateco che abbiamo visto nella prima parte del corso, che suddividono le varie professioni, i vari tipi di azienda, e da qua è uguale, qua abbiamo un numero molto più ridotto e quindi quando voi andate a registrare il marchio dovete dire non so, io registro un marchio, esempio no, ISIA, ipotizzando che ISIA sia una scuola privata che vuole fare business, io voglio registrare il marchio per la categoria formazione, scuole, istituti, formazione privata, però voglio anche registrare il marchio per editoria, perché? Perché magari abbiamo in mente anche di fare i manuali e i prodotti, i contenuti creativi, quindi appunto i testi, ma anche i video, delle lezioni, e via dicendo, a fare delle produzioni da commercializzare e quindi lo stesso marchio agisce anche in quella categoria lì e poi ISIA sia una scuola di design vuole anche registrare il marchio nella sezione diciamo design, quindi produzioni di design, perché anche se è una scuola però vuole poi mettersi sul mercato delle produzioni. e dopo, vabbè, se volete vi do a parte il link a questa classificazione di inizia. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi. La rinnovazione si è effettuato per periodi di 10 anni, vedete, cicli di 10 anni in 10 anni, ok? Quindi un marchio normalmente alla prima registrazione dura 10 anni, però poi posso rinnovarlo per altri ulteriori 10, per altri ulteriori 10, via dicendo. Quali sono i diritti che vengono conferiti dalla registrazione? Abbiamo detto che appunto alcuni diritti vengono acquisiti per natura, così per un effetto automatico, come succede nel diritto d'autore, e quello è il marchio di fatto, ma quando io invece parlo di marchio registrato, con la registrazione la legge già ti garantisce questi diritti. Questo è un po' l'equivalente, queste due slide che vediamo adesso, di quella nostra slide che abbiamo visto nella parte sul diritto d'autore in cui c'era quel grande schema ad albero, in cui c'erano tutti i vari diritti previsti dalla legge italiana sul diritto d'autore, cioè i diritti che vengono attribuiti agli autori nel momento in cui loro creano l'opera. Questo è, diciamo, il suo corrispondente, cioè i diritti che la legge, il codice della proprietà industriale, il codice della proprietà industriale italiano attribuisce alle aziende che registrano un marchio nel momento appunto in cui lo vanno a registrare. I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Quindi torna il concetto di diritto esclusivo, che abbiamo visto già nel mondo del diritto d'autore in generale della proprietà intellettuale. Quindi esclusivo nel senso che è l'unico soggetto titolare diciamo che ha il potere e la possibilità di sfruttare quel marchio. Esclusivo nel senso di escludere altri soggetti dallo sfruttamento. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica A. Un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato. B. Un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. E torniamo, vi ricordate, a un po' questo leitmotiv del rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni che era un po' la paura che aveva avuto A. Style in quel caso cioè la sua paura era che, visto che il marchio era un po' simile ma quelli facevano produzioni pornografiche non voleva che per qualche motivo la gente associasse i due marchi pensando che quasi venissero dalla stessa società. e il punto C dice che il titolare ha diritto appunto di vietare a terzi di usare alla propria attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza lì è un errore, goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno anche affini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio e rega pregiudizio di stessi. L'abbiamo già visti più o meno questi principi vedete che quando vi ho detto che la legge sui marchi è ridondante scritta in modo un po' ridondante eccolo qua, cioè ci sembra che abbia ripetuto queste cose qua le abbiamo già un po' lette solo che sono in un'altra forma e anche qua si coglie che il marchio rinomato ha una tutela maggiore una tutela rafforzata perché anche il marchio rinomato va a agire anche su prodotti che non sono affini se c'è però il rischio non solo della confusione ma del fatto che il concorrente tragga in debito vantaggio dal cosiddetto agganciamento verso un altro marchio il concetto di agganciamento non so se l'avete studiato nel marketing e poi il fatto di dire, non so, faccio orologi tipo Rolex quel tipo Rolex è il classico agganciamento cioè stai dicendo che in realtà non fai Rolex però fai tipo Rolex e allora per magari l'acquirente non particolarmente appassionato di orologi gli crei confusione e magari pensa che sì, ok, non sono proprio Rolex però vanno bene lo stesso, sono quasi buoni come i Rolex oppure faccio chitarre tipo Fender eh, dipende tipo Fender quanto tipo? cioè molto tipo o poco tipo? perché ci sono chitarre che costano 300 euro che non si avvicino neanche per sbaglio a una Fender made in USA che costa almeno 1.600-1.700 euro o 2.000 euro ok? vabbè punto 2 dice che comma 2 dice che nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti e sulle loro confezioni e sugli imballaggi di offrire i prodotti, di metterli in commercio e di detenerli a tali fini oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno oppure di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso o infine anche di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità quindi questi sono tutti gli ambiti in cui l'esclusività del diritto di marchio agisce quindi in questi ambiti il titolare del marchio può vietare al suo concorrente che sta violando il marchio di fare attività di questo tipo di sfruttamento del marchio basta poi andiamo avanti insieme